Tori Thor! Tori Thor! Sono qui! Ehi Luca! Bibi! Siamo arrivando! Fate attenzione, ci sono dei fiori sanguisuga! Mi fanno paura, li strapperò a colpe di coda! Non ti metto, adesso arrivo! Desistete, sto arrivando! Fa' attenzione, Tori Thor! Aiuto! Non ce la passiamo più! Aiuto! Tori Thor! Fa' questo! Aiuto! Aiuto! Cerca di salvarli, Tori Thor! Fa' qualcosa, Tori Thor! Presto, Tori Thor! Mi stanno disanguando! E' sempre qua dentro, presto! Anni per male! Non credo che oseranno entrare! Oh, siamo salvi! E' presto per cantare Vittoria! Bibi, come faremo ad uscire da qui, eh? Sì, hai ragione! Troveremo il modo! Tori Thor, non ti sembra strana questa nave? In che sesso? Osservala bene! Sì! E' quasi intatta! Non ha nessun segno di usura, hai visto? Tori Thor! Tori Thor! Vado a sentire che cosa vuole Vittoria! Fantoci! Ma quella è Eptapoda! Assomiglia in modo impressionante a Eptapoda, che sacrificò a se stessa per aiutarmi! Ma come mai c'è questo fantoccio che le somiglia qua dentro? Sei qui, Tariton! Cosa sono quelli? Sono solo fantocci! Sembrano persone vive! Guarda quello! Assomiglia a Minotus! Sì, è Minotus, principe di Poseidone nel mare Artico! Ma perché in questa nave ci sono i simulacri dei principi di Poseidone? Non capisco! Perché? Minotus! Minotus! E' proprio dietro a voi! Uomo, una volta! Vuoi dire che Poseidone ha usato degli uomini per renderli suoi schiavi? Esattamente! Sua maestà Poseidone, padrone di tutti gli esseri viventi, ci ha dato la vita! E noi lo serviamo fedelmente! Maledizione, il padro è gelato! Ora morirai, Tariton! Tariton! Guardate, Pippi, nasconditi da qualche parte! Vieni qua, Tariton! In quella casa gli umani portano il fuoco! Minotus e Mipet potrebbero tenerlo! Minotus e Mipet potrebbero tenerlo! No! Tariton! Cosa? Ho trovato un fuoco! Mipet, mi occupo io di Tariton! Tu pensa alla sirena! Aiuto, Tariton! Vieni qua! Finalmente ci sbarazzeremo anche di te, maledetta sirena! Vieni! Brucio, maledetta! Brucio! Ehi ragazzi, guardate! Sta bruciando tutto! I fiori là fuori stanno bruciando! Ma anche la nave! Brucia! Ormai non hai scampo, ragazzo! La tua oga è suonata! La nave sta per affondare ormai! Se affonda è meglio andare via! Se ci allontaniamo, quegli strani fiori ci attaccheranno! Pippe! Che succede? Pucar è terribile! Tariton lotta contro Minotus! Allora questo fuoco? È stata colpa mia! Ho ucciso Mipet, è caduto fuori bordo e ha cominciato a bruciare! E se è stata fantastica! Dei granchi giganti! Aiuto! Mi muore! Dei attenti! Sono so triste! Il fuoco è arrivato! Aiuto! Io non sono come Mipet, non temo il fuoco! Non ci arrendere così facilmente, Calu! Il fuoco è arrivato! Tieni! Poseidone, tu premi perché io sono in Atlantico! Sappi che sono qui per vincerti, per sconfiggerti una volta per tutte! Gia! E viva Toriton! E viva Toriton! E viva la parte di sui mari! E viva Toriton! E urrà che Toriton! Urrà! 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 Minotus e Mipet sono stati uccisi! Minotus e Mipet sono stati uccisi! Toriton sta arrivando! Toriton sta arrivando! Toriton sta arrivando! Finalmente stai arrivando! Vieni pure se credi che sarà facile per te! Provaci! Le mie guardie non ti faranno mai superare la soglia della reggia di Poseidone! Mai! Galbess! Uccidi Toriton con qualsiasi mezzo! Egli è il nemico più grande per i Poseidoni! Egli vuole la fine del nostro regno! Non permettere al pugnale di Orialcon di entrare nella mia reggia! Non lo permettere! Egli vuole la fine del nostro regno! No gambi! No gambi! Non ti sinu! Lasso la fine del nostro regno! No per l'comende!